Dal prossimo mese in via Lattanzio 46 al rione Traiano, nella struttura che ospitava la scuola De Luca, aprirà un centro polifunzionale per anziani. Sono quasi conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento del vecchio edificio che dopo 13 anni di abbandono viene restituito alla città, incrementando l'offerta di servizi per la terza età sul territorio della Municipalità Soccavo Pianura. I lavori, costati poco più di un milione di euro, di cui buona parte finanziati dal Port Campania 2007-2013, sono stati realizzati dal Comune. Il centro occupa una superficie di circa 2.500 metri quadri e sarà in grado di ospitare, in regime residenziale, 22 posti letto distribuiti in 11 mini appartamenti. La prima parte dell'opera è stata la realizzazione della bonifica. Dopodiché c'è stato un consolidamento strutturale per adeguarla alle nuove norme sulle costruzioni e alla fine abbiamo incominciato a ristrutturare, abbiamo previsto 11 mini appartamenti al secondo piano per l'accoglienza anche continuativa di anziani e due piani realizzati per dare assistenza anche durante il giorno ad anziani. Saranno erogate prestazioni assistenziali agli anziani, dalla somministrazione dei pasti ad attività per lo sviluppo dell'autonomia, non mancheranno inoltre momenti di animazione e socializzazione ed iniziative culturali e laboratoriali, valorizzati anche gli spazi esterni con campi di bocce, tavoli per il gioco, panchine e gazebo. Per il 27 di questo mese abbiamo in programma la consegna dei lavori e quindi la struttura sarà pienamente operativa. Mi immagino che per gli inizi del mese di luglio già potrà essere operativa.